Nell'ultimo periodo mi è capitato più volte di parlare con qualche mio cliente e parlare soprattutto della sfera emotiva che dal punto di vista dello shatsu o della medicina tradizionale cinese sono parti integranti della diagnosi e di conseguenza del capire poi che cosa fare a una certa persona per cercare di farla stare meglio. E' molto importante stabilire che tipo di emozioni si muovono all'interno di quella persona che rapporto quella persona ha con le emozioni e mi è capitato più volte che queste persone per esempio nei confronti dell'emozione della rabbia che è l'emozione che si muove maggiormente adesso che andiamo in primavera mi dicessero ma io la rabbia non la provo io semplicemente non mi arrabbio io non si devo ascoltare per ripensare agli ultimi tempi non mi viene in mente un momento in cui io mi sono veramente sentito arrabbiato in cui ho sentito percepito la rabbia dentro di me non succede non capita questa cosa di solito attiva un campanello d'allarme perché perché non è possibile che nel giro di qualche settimana qualche mese tu non abbia mai sperimentato uno stato di rabbia è molto più probabile in quel caso che tu la stia inibendo che tu la stia bloccando che tu non voglia vedere che quella rabbia c'è e quindi in funzione poi del ragionamento del discorso che si è fatto anche con queste persone mi è venuto in mente di approfondire anche con voi questo concetto di andare a vedere come l'idea di emozione in occidente nella vulgata diciamo e l'idea di emozione dell'oriente delle filosofie orientali sono molto diverse o meglio l'emozione più o meno è la stessa il modo con cui viene è descritto invece completamente diversa perché perché per esempio per noi in occidente è molto facile trovare persone che pensano che esistano emozioni buone ed emozioni cattive e normalmente la rabbia la tristezza il dolore sono emozioni buone la paura sono emozioni cattive mentre per esempio la felicità o la compassione o l'amore sono emozioni buone e allora noi tendiamo a escludere dalla nostra vita le emozioni che definiamo cattive il più possibile e invece cerchiamo di accrescere quelle buone mentre in oriente non c'è questa distinzione fra emozione buona ed emozione cattiva l'oriente non direbbe la rabbia una brutta emozione l'oriente direbbe può essere brutto buono o cattivo se volete l'approccio che noi abbiamo nei confronti dell'emozione non l'emozione in sé perché se per esempio noi prendiamo la rabbia grande emozione distruttiva eccetera beh la rabbia è quell'emozione che si scatena nel momento in cui noi percepiamo qualche cosa che ci opprime che ci sottrae spazio vitale quando qualcosa ci comprime noi reagiamo sviluppando rabbia allora qualcuno ci dice ci offende e quell'offesa noi la percepiamo come una vergogna e la vergogna come tipo di emozione come tipo di movimento energetico se l'ascoltate all'interno sentirete un movimento dello yin un movimento che si contrae qualcosa che si schiaccia qualcosa che si stringe e quindi in qualche modo che si sviluppi rabbia di fronte a quella circostanza è sano è normale quando il popolo sente l'oppressione dei governanti è naturale e sano che sviluppi rabbia è naturale è normale se qualche cosa mi comprime la rabbia si manifesta come tentativo e di riportare la situazione in equilibrio capite che se noi prendiamo questa emozione questa energia enorme perché la rabbia è in grado di muovere delle energie che francamente le altre emozioni non sono così in grado di richiamare così velocemente se noi rinunciamo perché diciamo quella è un'emozione sbagliata e quindi devo reprimerla devo schiacciarla devo far finta che non ci sia beh stiamo rinunciando alla nostra capacità di opporci nel momento in cui qualche cosa percepiamo che sta limitando la nostra libertà limitando i nostri spazi che sta offendendoci che sta vedete voi ora dicevamo l'oriente ha un altro approccio l'oriente non dice buona emozione cattiva emozione ma dice è buono cattivo il tuo modo di relazionarti con quell'emozione e già questa cosa è una cosa che ci fa capire qual è la differenza perché la maggior parte di noi quando percepiamo all'interno un'emozione tendiamo immediatamente a identificarci con quell'emozione siccome noi siamo identificati con la nostra interiorità quando nella nostra interiorità si muove rabbia diciamo io sono arrabbiato quando si muove tristezza diciamo io sono triste questa cosa però è un problema dal punto di vista orientale proprio perché quell'emozione se tu la identifichi come te stesso è un po' come se tu stessi dando a lei le redini del comando dicendo il beh fai quello che vuoi siccome io sono la rabbia allora è la rabbia che deve esprimersi allora non sono più io libero di scegliere come comportarmi no così dice la rabbia cieca non ti fa vedere nient'altro che l'obiettivo che vuoi distruggere ma alla fine che garanzia abbiamo di essere noi le emozioni che sperimentiamo e quindi che abbia senso dire io sono arrabbiato beh non abbiamo nessuna garanzia di questo anzi tutte le prove ci direbbero il contrario perché perché ci sono delle parti della nostra esistenza su cui non ha senso porre una sorta di colpevolizzazione non ha senso dire sbagliata la rabbia per il semplice fatto che la rabbia non la scegli tu la rabbia è come la fame tu non scegli se avere fame oppure no tu al limite vuoi scegliere cosa farne di quella fame e cioè se dargli le redini e quindi sbranarti tutti i cannelloni che sono rimasti nel frigo direttamente dalla pirofila freddi senza neanche scaldarli che poi ti rimangono sullo stomaco oppure magari puoi pensare di dire vabbè aspetto due ore faccio cena oppure puoi dire io faccio digiuno e quindi non mangerò niente hai scelto come gestire quella fame ma non sei tu il responsabile di quella fame così come non sei tu il responsabile di quella rabbia e quindi colpevolizzarla e colpevolizzarti per provarla non ha nessun senso esattamente come la fame tu puoi al massimo gestire cosa te ne fai di quella rabbia cioè posso attaccare aggredire la persona la situazione che mi stanno tarpando in qualche modo la mia libertà posso inibirla posso trasformare in un successo punk vedete voi ma è successivo la nostra scelta è successiva e non possiamo colpevolizzare una cosa che non abbiamo scelto capite cioè non ha senso sto prendendo qualcosa che non è mio che è pure brutto e mi sto colpevolizzando perché lo percepisco e per non colpevolizzarmi allora faccio finta di non ascoltarlo no gli orientali direbbero no aspetta pensa un'altra cosa pensa che la rabbia non è tua e quindi non farla tua non dire io sono arrabbiato concedendo così il comando a quell'emozione così come quando dicevamo io sono affamato e concedo tutto il comando alla fame lei esagera lo fa anche la rabbia il concetto è cambiare questa prospettiva e se vogliamo proprio usare le parole anche se sappiamo quanto i taoisti ci dicono che le parole sono sempre in qualche modo truffaldine ma va bene invece che dire io sono arrabbiato diciamo dentro di me c'è rabbia c'ho rabbia per citare gino comunque a prescindere dire c'è rabbia dentro di me e non io sono arrabbiato guardate che è una cosa completamente diversa guardate che è proprio un cambio di prospettiva totale perché perché una cosa è dire dentro di me c'è una roba e io la devo gestire altra cosa è dire io sono quella roba lì se io dico io sono quella roba lì dicevamo le mie scelte saranno molto limitate all'espressione di quell'emozione non potrò fare granché altre scelte dovrò scegliere se inibire o dar retta a quel tipo di emozione se io invece dico c'è della rabbia dentro di me come dire mi fa un po male un ginocchio certo vado a controllare vado a vedere eccetera ma non dico io sono il dolore al ginocchio se dico io sono il dolore al ginocchio vuol dire che quel dolore al ginocchio è diventato troppo potente all'interno di noi e ci sta condizionando troppo rispetto a un piccolo condizionamento che ogni dolore ci riserva nel taoismo nella medicina tradizionale cinese in questo caso più specificamente esistono cinque emozioni principali che quando vanno in eccesso o quando vanno in carenza determinano dei grossi problemi all'interno del corpo sono rabbia felicità compassione tristezza e paura i taoisti li chiamano i cinque briganti o i cinque sobillatori del popolo che cosa vuol dire beh il popolo è l'interiorità e loro sono i sobillatori cioè sono quelli che vanno nell'interiorità dire ma dobbiamo andare in quella direzione lì è fondamentale andare in quella direzione lì e convincono il corpo non a esprimere se stesso spontaneamente così come voleva la tradizione taoista così come cerca di portare avanti la filosofia del tao ma nella direzione in cui vuole andare quell'emozione e quando noi mettiamo nella cabina di regia un'emozione al contrario di quello che diceva inside out che ha fatto più danni che la grandine si stiamo esponendo a dei rischi perché perché abbiamo detto l'emozione ci conduce in una direzione quindi le scelte che faremo saranno più o meno quelle e soprattutto indurre dentro di noi un'emozione guarda che ci vuole un attimo è istantaneo due note di una canzone un po triste un po conosciuta tipo queste o la foto di un cane al canile un po con gli occhi un po pisciosi eccetera è un attimo e ci muove immediatamente l'emotività è super veloce super rapida o pensate ti dicono sono sono morte oggi di x persone contagiati x persone la linea che sta crescendo il rt paura immediatamente ci si mette un attimo è ok però poi quell'emozione condiziona il nostro comportamento capite dov'è l'inghippo qualcuno potrebbe usare uno stato emotivo per indurre tutti quanti ad andare in una certa direzione se io sono vittima di quello stato emotivo e cioè sto dicendo io sono impaurito allora sono contentissimo se mi metto in lockdown perché la paura vuole starsene da solo vuole starsene protetta la paura spinge in quella direzione lì capite che però in questo modo si manipola enormemente la persona passando all'interno di un brigante di un sobillatore dell'emozione però facendo passare l'emozione come una cosa tua di cui sei responsabile tu e soprattutto di una cosa con cui tu devi essere coerente ma non è vero prendete l'arte della guerra di sun su cosa dice dice se conosci il tuo nemico e conosci quali sono le emozioni che muovono maggiormente il tuo nemico sfrutta il tuo vantaggio se la persona con cui stai combattendo è collerica falla arrabbiare se te incline alla protezione alla paura spaventala perché in quel modo tu sai come lei si comporterà perché perché se quell'emozione è dominante il movimento e le scelte che farà quella persona saranno quelle quindi da un certo punto di vista l'oriente ci aiuta perché ci mette un attimo in prospettiva le emozioni quell'emozione c'è c'è dentro di me non la devo inibire ma non devo neanche per forza farla mia e dall'altra parte ci ricordano attento perché le emozioni spingono in una direzione e se tu lasci che qualcosa o qualcuno le muova all'interno di te e tu ti identifichi con ciò che nasce dentro di te sei fregato andrai sempre nella direzione in cui chi ha fomentato l'emozione in principio voleva spingerti bene direi che io spero di aver chiarito un attimino la questione delle motività e dei pericoli delle motività esagerata per quanto riguarda l'oriente per quanto riguarda il taoismo ma anche in un certo senso anche il buddismo va nella stessa direzione se vi sono rimasti domande dubbi perplessità o consigli scrivetemi pure nei commenti io non posso fare altrimenti che ringraziarvi per aver visto questo video e aspettarvi se vorrete al prossimo